Tutto pronto a Berlino per l'annuale Festival del Cinema Internazionale. Per le star e i giornalisti in arrivo nella capitale tedesca, il red carpet riserva quest'anno una sorpresa. Si tratta di Roli, robot reporter. Roli documenterà ogni singolo istante del festival. Arruolato da una casa di produzione tedesca, rischia di gettare ombra sui vip in arrivo. Berlino è da sempre la capitale delle anteprime. Tutto succede qui, siamo al centro degli eventi. Ci siamo detti come possiamo raccontare tutte queste anteprime. Dobbiamo posizionare la 35esima telecamera sul red carpet oppure possiamo trovare un'altra soluzione. E la soluzione è stata Roli, un robot interattivo in multilingue. Il debutto di Roli è stato in occasione della prima della nuova commedia di Mattias, Shehofer, Schlusmacher, a Berlino. Ho letto che lei è stato il produttore, il regista e l'attore principale di questo film e è riuscito in tutti e tre questi ruoli. Sono noto per la capacità di risparmio, ecco perché ho fatto tutto da solo. Può portarmi il gruppo, vorrei cantare una canzone. Nella nuova pellicola di Shehofer, il protagonista Paul è un separatore di coppie professionista. Lungo il suo viaggio attraverso la Germania incontra Toto, che non riuscendo ad accettare la notizia, sconvolgerà la sua vita e quella di Paul. Glippst du mich eigentlich? Lieber, weißt du, das ist so ein großes Wort. Und Wahnsinnsaussichten. Wie viele Trennungen haben sie jetzt eigentlich noch? Wenn alles glatt geht, können sie gerne schon nach dem ersten als Partner einsteigen. Bis eher. Ihre Freundin möchte die Beziehung gerne beenden. Sind sie von einer versteckten Kamera? Sie sind von einer versteckten Kamera. Toto trifft. Io non ho una canta, non ho mai il mio. E' per questo spiegare io qui. Oh Gott, è un po' Wahnsinn. Come sei la cavata Roli? Questo è il futuro. E' un po' come iRobot, però è tutto vero. Un po' too real. E' un po' come iRobot. E' un po' come iRobot. E' un po' come iRobot.